E allora ecco noi, Mariano Aquila della MISP, al termine dello scontro con l'Evolution Team. È arrivata la vittoria, voglio prima un commento a caldo sulla partita. È stata una bella partita, ce la siamo complicata nel finale, ma tutto è andato vero in verso giusto. La partita che non si era messa bene dalle battute iniziali subito sotto, secondo te quali sono le cause del gol incassato all'inizio gara? È un fallo stupido, poi l'arbitro ci ha messo del suo, quindi diciamo che il contatto era abbastanza leggero, quindi ci poteva anche non stare il rigore. Allora adesso salite a quota 12 punti in 5 partite giocate, tutto sommato ti chiedo un buon bottino. Ah certo, certo, potevamo fare meglio nella partita che abbiamo perso 4 a 1, però siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo, speriamo di continuare così. Allora dici speriamo di continuare così, per perseguire quale obiettivo? E vincere il torneo. Allora chiaramente, grazie ancora e l'appuntamento alle prossime partite. Grazie mille, arrivederci.